A seconda delle quantità alcuni cibi possono essere nocivi per i gatti. Andiamo ad elencarne 9. Alcol. Le conseguenze possono variare da sintomi neurologici fino a coma e morte. Caffè. Si possono rilevare sintomi gastroenterici, tossicità cardiaca e del sistema nervoso. Cioccolato. Il cioccolato contiene la teobromina, letale per i gatti. Agisce a livello neurologico nelle ore seguenti all'accidentale somministrazione. Il cioccolato fondente è ancora più pericoloso. Infatti in alcuni casi possono bastare pochi grammi per avvelenare un gatto. I sintomi possono variare da malessere generale, inappetenza, diarrea fino al coma. Aglio. Può causare sintomi gastroenterici, anemia con danni alle cellule ematiche. Noci di macadamia. Possono causare danni al sistema nervoso e muscolare. Funghi. Alcuni possono causare shock e successivamente morte. Uva. In alcuni soggetti può causare insufficienza renale. Avogado. Causa sintomi gastroenterici anche gravi. Xilitolo. Può causare ipoglicemia, insufficienza epatica e addirittura morte.